Vaccini esauriti. Mentre da ogni lato si consiglia a tutti, non solo ai soggetti più a rischio, di farsi l'iniezione antinfluenzale, l'ASL di Lanciano Vastochieti annuncia a soli due giorni dal Vaccination Day la sospensione della distribuzione dei vaccini. A causa della notevole richiesta, si legge nel comunicato, le ditte farmaceutiche hanno momentaneamente sospeso le consegne. Si prevede di riprendere tale attività, fanno sapere dalla ASL, nelle prime settimane di novembre. Già nei giorni scorsi infatti i farmacisti avevano lanciato l'allarme siamo a corto di dosi, aveva detto il presidente di Federpharma ai nostri microfoni, così non riusciremo a vaccinare tutti. E adesso la conferma di quanto era temuto. L'ex assessore regionale alla sanità e capogruppo del PD in regione Silvio Polucci va all'attacco. È un problema nazionale, certo, ha detto il consigliere, ma l'Abruzzo è ultimo in Italia. Un atto gravissimo che noi avevamo purtroppo denunciato e previsto per tempo e dappertutto sta accadendo in questa regione. Le segnalazioni di cittadini che non riescono a vaccinarsi, di medici che non hanno le dosi, di farmacisti che non hanno le dosi, nei distretti anche delle nostre strutture sanitarie è diffusissimo. È una cosa molto molto grave. Noi abbiamo ricordato che a luglio erano arrivati tardi nella programmazione delle dosi da acquistare. Hanno chiesto le stessi numeri di dosi degli anni precedenti senza Covid. È chiaro che quest'anno ci sarebbe stata ovviamente un incremento delle richieste. Siamo stati l'ultima regione per tempo e per richieste di quantità. Una vera e propria vergogna. Marsilio, si deve occupare delle cose serie, non di fare delle convenzioni allucinanti e illegali come quelle fatte con il Napoli. Questa è una cosa seria. Si deve occupare delle cose serie quando ci sono 4,1 milioni di euro di donazioni private che non ha utilizzato per il Covid. E intanto tante migliaia di persone aspettano il vaccino per l'influenza.